Allora, facciamo una cosa, onde evitare che mi inquieti più del necessario, vieni qua, facciamo una cosa insieme, dai. Oh, bravo, perché sul manifesto c'è scritto Pablo e Pedro, non solo e Pedro, quindi facciamo una cosa, no, no, basta ridere, eh, glieli faccio far garzialò la cosa, là, eh. Allora, siccome adesso devo recitare questa poesia, avrei bisogno di un sottofondo musicale, mi potresti vocalizzare un qualcosina, appena appena accennato, va bene? Ce l'hai uno strumento? C'è un bello strumento, io scherzi, tua sorella lo suona da anni, ma... Che ridete, che ridete, che cosa ridete? È una battutaccia, una battutaccia. La sorella è come Brukka di Beautiful. Ma lascia stare. Come vede uno... Non è che c'ho niente contro Brukka, a me piace Beautiful, d'altra parte a chi non piacerebbe sapere che è tuo padre, eppure tuo nonno, tuo zio, tuo fratello e tuo cugino. A Natale fai un regalo solo e via, non è che... Vieni qua, batto otto e partiamo. Ecco, creiamo un attimo l'atmosfera, vuoi una luce particolare? Sì, vorrei un occhio di bue. A me un tramezzino che sto stavolando. Lascia stare. Lascia fare, le luci, chiedi. Già prima per andare su la terra è successo un macello. Si scherza. Batto otto e partiamo. Musica da camera. Sì. Poesia. Si diesis. Sì diesis. Scusate. No, grazie. La bemolle. La bemolle. Molto meglio. E com'era? La bemolle. La bemolle. No. Non ho detto la bemolle, tonalità la bemolle. Allora tu mandi la gente in carcere, tu hai detto la bemolle. La bemolle. Tonalità non lo hai detto. E sia. Mamma mia, oh. Gol, gol. Gol, chi ha segnato? Nessuno. E che fa io? Sto cercando la concentrazione. Sono un attore. Sto penetrando il personaggio. Oh, va bene. Faresti bene a penetrarlo anche a te. No, no, fate penetra a te, io sto bene così. Senza essere penetrato. Ah, scaldo la voce. Che io così scaldo la voce? Ma non si è mai visto uno che scalda la voce così. Io lo faccio, va bene. Che c'è? Mi so soffiato il naso. Io lo faccio, va bene? Dai, ma non si può scaldare la voce così un posto che fa più 40. Batto 8 e partiamo. Musica da camera. Poesia. Poesia. Batto 5. Che c'è? Dovo mandan fax urgente o mandan. Batto 5. Che c'è? Avevo lasciato internet attaccato, ho staccato la spina. Non connette. Ma la gente vuole ridere? Batto 8 e partiamo. Musica da camera, poesia. Ma chi la fa la musica da camera? Federico Garzia Lorca. Ma la musica da camera io. Lamento per la morte di Ignazio. Sì, ma la musica da camera. Te lo sto dicendo, musica da camera. Io. Certo che sì. Dai, che quella già ti va andare al bagno. Veloce, veloce, dai. Io faccio la musica da camera e te Lorca, dai. Silenzio, per cortesia. Sì. Batto 5. Batto 6. Batto 5. 6. Ah, 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 sì, dai, sì, ah, 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 dai, tesoro, sì, ah, 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 zitta, zozza, zitta, zozza, ah, 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 sì, mi piace ancora, ah, 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 mamma mia, un taoista di faccia. Gira di ..., ah, 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 mettieri, ah, 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 mettieri quello al tavolino davanti, sua a sinistra, ah, 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 partì con le parole, vai, ah, 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 ah. Penso di aver sbagliato camera. Tu mi hai veramente stancato, va bene? Ma che cosa ti sei messo in testa? Che cosa ti sei messo in testa? Io ho i capelli, se niente. Continuo da solo. A dove vai?